Se tu sei un tipo sveglio, sai che Emilio è proprio meglio. Non ti dice mai di no, solo Emilio è meglio. Una telefonata per te. Emilio, parla con la tua voce. E la puoi cambiare in tre modi diversi. Mani prensili, vassoio, fanno porta tutto. Non ti dice mai di no. Amori mamma. Emilio, fa tutto quel che vuoi. Emilio è meglio. Emilio, il vero robot radiocomandato è giochi preziosi. Dai che non è qui, io cago, io cago, io cago.